Musica Telespettatrici e telespettatori di Rossini TV, buongiorno, benvenuti a Casa Rossini, il nostro programma in diretta ogni lunedì, mercoledì, venerdì, dalle 10 alle 11.15 all'incirca. Un salotto con ospiti, ogni mattina ospitiamo tre personaggi del nostro territorio con i quali facciamo una chiacchierata come se non ci fossero le telecamere. Questo è un po' l'obiettivo, ma voi siete a casa, ci seguite e allora per voi che ci seguite i contatti per collegarvi in qualche modo con noi sono un numero di WhatsApp 351 708 9977 e un indirizzo mail il Casarossini, chiocciolarossinitv.it. Come utilizzare questi contatti? Per esempio mandando delle domande o dei commenti relativi a quello che stiamo dicendo, visto che siamo appunto in diretta, oppure da qualche tempo anche partecipando a questo sondaggio scherzoso e divertente che vi proponiamo. Il sondaggio di lunedì scorso si era concluso con un 30% per quelli che avrebbero piacere di cambiare il loro passato contro un 70% di quelli che invece dicono no, il passato non si cambia, va bene così. Sono temi ovviamente scherzosi che noi proponiamo come quello di oggi, oggi è ancora più faceto e umoristica la divisione. Preferite capelli lisci o ricci? Non abbiamo dato la terza opportunità che è quella dei capelli mossi come invece questo modello A, ecco lisci o ricci, ricci in questo caso e dovrebbe essere anche un uomo con i capelli ricci se non sbaglio, eccolo qua. Benissimo, allora esaurito questo andiamo a parlare della giornata, oggi è il 3 marzo, 62esimo giorno del calendario gregoriano, mancano 303 giorni alla fine dell'anno e secondo Personology oggi è il giorno del disegno. Molto importanti, oggi sono due giornate mondiali, la giornata mondiale della fauna selvatica, il World Wildlife Day, la giornata mondiale della natura selvatica istituita dalle Nazioni Unite, ricorrenza globale che focalizza l'attenzione di tutti i paesi del mondo sul tema della biodiversità e sulla tutela degli ecosistemi naturali che rendono unico il nostro pianeta. E poi è la giornata mondiale dell'udito, un evento che l'Organizzazione Mondiale della Sanità dedica ad azioni di sensibilizzazione, prevenzione e informazione sulla sordità. La Chiesa Cattolica oggi celebra Santiziano da Brescia, vescovo, il suo episcopato si pone alla fine del V secolo, di lui praticamente non si sa niente, solo il nome, c'è pochissimo da cercare e da raccontare sulla storia di questo santo che viene da Brescia. L'evento storico che abbiamo scelto per il 3 marzo invece è particolarmente suggestivo e avventuroso e anche recente. Nel 1999 Bertrand Piccard, aviatore e psichiatra svizzero, insieme al britannico Brian Jones, aeronauta, incominciano il loro tentativo, poi riuscito, di circunnavigare il globo senza scalo a bordo di una mongolfiera. Piccard che viene da una famiglia di ingegneri e esploratori, nonno August Piccard era un pilota di mongolfiere per cui non poteva lui fare nient'altro, mentre il padre Jacques Piccard è stato il primo a immergersi col battiscafo Trieste nella fossa delle Marianne. Questo è il percorso dopo aver viaggiato 45.750 chilometri in 19 giorni, 21 ore e 55 minuti, il 21 marzo del 99 atterrarono nel deserto dell'Egitto. Fu il volo più lungo della storia dell'aviazione per durata e distanza coperta. Prima di loro altri avevano tentato 10 equipaggi, 21 tentativi non riusciti. Quella che avete visto appunto la loro mongolfiera si chiamava Brightling Orbiter III, alto 55 metri, alimentato da gas propano contenuto in cilindri di titanio, insomma tecnologia di altissimo livello per questa impresa. Adesso la navicella è esposta non a caso al National Air and Space Museum dell'aeroporto di Washington. Chiudiamo questa parte iniziale col pensiero del giorno, seguire i nostri sogni può portare alla libertà o alla prigionia. Attenzione, ringraziamo per lo studio Gulliver e Tiziano Donzelli che è stato qui con noi e diamo il benvenuto a Giuliana Ceccarelli che è la prima ospite della giornata. Buongiorno Giuliana. Buongiorno a tutti. Buongiorno Giuliana, assessore alla gentilezza e alla crescita, le deleghe le leggiamo tutte in dettaglio perché sono tutte molto importanti, servizi educativi, scuola, pari opportunità, lotta all'odio, delega direi particolare, ne avremo modo di parlarne. E con Giuliana, io con molti dei miei ospiti ho atteggiamenti confidenziali perché conosco storie, siamo un po' anche cresciuti insieme. Con Giuliana in particolare sì perché Giuliana ha dei trascorsi teatrali, giusto? Sì, è vero. Noi ci siamo conosciuti principalmente in casa tua, grazie al tuo papà perché tanto tempo fa ormai facendo degli spettacoli teatrali nella parrocchia di Villa San Martino, noi allora facevamo questi spettacoli per tirare su qualche soldino, come giovani della parrocchia, tirare su qualche soldino e fare poi delle attività, delle iniziative culturali. Una sera venne alla compagnia di tuo padre, di Carlo, e mi ascoltò mentre recitavo così in maniera molto ovviamente alla buona, come si suol dire, e mi disse, mi chiese, perché non vieni con noi? Il perché non vieni con noi si è trasformato in un periodo di 15 anni, più o meno. E quindi ricordo sempre una battuta del tuo babbo, perché siccome andavamo un po' in tutti i paesi, anche dei dintorni, persino in Romagna, a recitare con il ciccio bello e la carolla, poi dopo con il Pasqualone, eccetera, che ricordo sempre con molto piacere, con un gran sorriso, la battuta era, c'è manca da recitetta, vasca da bagno. Era rimasto solo quello, pensa già quella volta, pensa dopo tutto quello che ha fatto e che è stato fatto in seguito. A proposito, lo dico perché secondo me è importante nei confronti di tutti quelli che ci stanno ascoltando, ed è un esempio. Ieri siamo andati col babbo a fare il vaccino, tutto bene, ha funzionato tutto perfettamente e sta bene, ho verificato. Hai verificato che sta bene, bene. Ha avuto quel dolorino iniziale, quello della punturina, del picco, come dicevamo da piccoli, e basta. Unisco un caro saluto ovviamente. Lo salutiamo e lo dico non tanto per fare i fatti miei in televisione, quanto per dare un segnale positivo a tutti quelli che in questo momento stanno aspettando appunto il loro turno o quelli che magari sono ancora un po' nel dubbio. Ecco, se vi può aiutare a prendere una decisione anche questa cosa, siamo ben contenti di contribuire a snebbiare un po' la situazione, anche se poi mi sembra, almeno vedendo ieri, che c'è una bella partecipazione. La decisione sembra molto ampia. Sì, sì, sì. In quella fascia d'età sicuramente sì. Poi dopo, quando cambieremo fascia d'età, vedremo. Allora, Giuliana Ceccarelli è con noi. Naturalmente sarebbe bellissimo poter parlare solo dei fatti nostri, ma in realtà noi siamo qua anche per parlare del tuo assessorato. Questo assessorato così importante e così nel mirino, se vogliamo, ma in effetti poi ci sei abituata perché da subito, da quando il sindaco Ricci ti ha chiamato nel 2014, per il primo mandato, da quel momento si è capito che in quel ruolo era veramente necessaria una figura che avesse una provenienza dal mondo della scuola. Quasi mi viene da dire che il tuo percorso, visto oggi, potrebbe sembrare quasi una preparazione al ruolo di oggi. Tutto quello che hai fatto, hai fatto l'insegnante, la preside, coinvolta nelle attività di provveditorato. Ti voglio fare una confidenza, voglio fare gli spettatori. Io ho iniziato con la scuola dell'infanzia, prima con le supplenze, come succede a molte persone che si avventurano nel mondo della scuola. Poi il primo incarico vero annuale è arrivato nella scuola dell'infanzia e ho amato talmente quella scuola perché è veramente un percorso di vita, sia per i bambini che per noi insegnanti di grande crescita, che ci sono rimaste per 17 anni. Quindi per i 17 anni sono stata insegnante di scuola dell'infanzia. Poi il desiderio ovviamente di cambiare, ma credo che sia abbastanza naturale, è la scuola primaria, insegnante di sostegno e un impegno di 5-6 anni presso il provveditorato prima e l'ufficio scolastico regionale all'ufficio studi, come responsabile dell'ufficio studi, in particolare dell'integrazione dei ragazzi e dei bambini e dei ragazzi disabili. Esperienze di grande spessore, veramente per me sono stati anni molto importanti, anche per capire il meccanismo dell'amministrazione. Perché sei insegnante, è vero, sei insegnante, fai il tuo lavoro, cerchi di dare tutto a te stessa per questo lavoro perché lo ami, però ecco il meccanismo dell'amministrazione lo capisci poi dagli uffici, dagli impegni che hai al di fuori di quell'ufficio, l'essere chiamata anche in tutta Italia per tenere dei convegni su quella tematica. Perché ricordiamoci che l'Italia, per quel che riguarda l'integrazione dei ragazzi disabili, che è stata forse la prima nazione, oggi parliamo di comunità europea, noi abbiamo una legislazione che inizia questo percorso di integrazione dei ragazzi disabili che risale al 75. Quindi pensate che cosa vuol dire? Io quando facevi i progetti europei poi, sia da preside che da insegnante, quando poi sono diventata dirigente scolastica nel 2015, nel 2005 chiedo scusa, i percorsi che facevo riconoscenza attraverso i paesi dell'Europa, ancora in molti paesi dell'Europa ci sono le classi differenziali. Noi le classi differenziali le abbiamo abbandonate da un sacco di tempo, noi abbiamo fatto un percorso di inclusione all'interno della classe, che è un percorso che fa bene al bambino disabile perché non è il confronto sempre con l'handicap e quindi con la disabilità, ma invece con un contesto molto più ampio che è quello della normalità. Ma fa bene anche ai bambini cosiddetti normali perché hanno una forma di apprendimento di comprensione nei confronti dei bambini disabili appunto molto diverse, hanno un approccio diverso anche sociale poi. Confronto con la vita vera, che non è una cosa da trascurare. Oggi come oggi serve ancora di più sottolinearlo perché sicuramente la pandemia ha evidenziato e ha sottolineato tante cose che si tendevano magari a trascurare, a mettere lì e invece tornano tutte sul piazzo. Sì, ma poi chi ne ha sofferto di più in questa situazione è sicuramente chi era più in difficoltà, i ragazzi, i nostri ragazzi disabili. Quando ci siamo trovati nel periodo di febbraio, marzo, aprile, in cui veramente era difficile trovare una modalità anche di approccio scolastico perché era tutto a distanza, chi ha sofferto di più sono stati i ragazzi disabili, i ragazzi con problemi di comportamento, di apprendimento in genere. Insomma questa mia teoria che il tuo percorso possa quasi sembrare, visto a oggi, una specie di lunghissimo percorso di avvicinamento, di apprendistato a quello che poi è diventato questo ruolo che stai ricoprendo da parecchi anni, il secondo mandato. C'è differenza tra il primo e il secondo mandato, hai trovato differenze oppure c'è stata una sorta di continuità evolutiva chiaramente e di sviluppo? Ma guarda, c'è stato fondamentalmente una continuità perché anche lì l'assessorato all'istruzione così come l'assessorato ai servizi sociali è composto da tante persone all'interno, mentre alcuni assessorati magari hanno semplicemente bisogno di una segretaria odio. Lì noi abbiamo tante persone, chi si occupa della mensa, chi si occupa del trasporto, chi si occupa delle rette, la mia segretaria, cioè ci sono tanti organismi che devono far confluire le forze per far girare bene tutta la macchina amministrativa. Io credo che, dicevo, per quel che riguarda la continuità, questo è sicuramente stato un approccio, c'erano persone già professionalizzate, non ho portato niente di nuovo. L'aspetto, diciamo così, innovativo che può essere maturato negli anni è quello di aver alimentato e aumentato il rapporto con le scuole superiori e quindi con tutta quella progettualità che mette a confronto gli adolescenti, appunto la lotta all'odio, l'educazione ai sentimenti, tutti questi progetti che abbiamo portato, la Shoah, le differenze culturali che ci sono nelle diverse culture. Io, come collaboratori esterni ovviamente, ma col quale ci sentiamo spesso, molti professori delle scuole secondarie di secondo grado, quindi delle superiori, con cui ci sentiamo periodicamente, abbiamo anche una chat, facciamo questo, facciamo quell'altro, muoviamo questo, muoviamo quella. Cioè, questa cosa, io credo che, ecco, nelle precedenti fase amministrativa non c'era. Perché questa cosa è avvenuta adesso con le superiori? C'è stata quella fase per cui sembrava, se vi ricordate, col referendum della provincia, provincia sì, provincia no, sembrava che le province scomparissero. Per cui abbiamo come comune assorbito tutte le cose belle, diciamo, che potevamo maturare e portare avanti con le scuole superiori. Perché, come sappiamo, le scuole superiori erano di competenza della provincia. Tuttora a livello strutturale di edifici sono di competenza della provincia. E quindi è stato un bel cammino. Poi dopo, un anno fa, circa febbraio più o meno dell'anno scorso, il sindaco ritorna da un convegno e mi dice, ti do anche la delega della gentilezza. E questa cosa dalla gentilezza, che di per lì potrebbe sembrare una cosa, un artificio, invece no, è perché abbiamo bisogno di gentilezza in un momento come questo. Socialmente dobbiamo fare riferimento ad aspetti positivi. I negativi già ci bastano, quello che vediamo e sul quale ci confrontiamo. Però che cosa di bello produce la scuola e produce la società, lo dobbiamo assolutamente mettere in evidenza. Io non ho molta esperienza di amministrazione di altre città, però ne ho abbastanza perché pratico gli uffici dell'amministrazione di Pesaro. E mi viene da dire che un altro aspetto è singolare. Non saprei dire se è unico, ma comunque mi piace sottolinearlo. Ed è una sorta di trasversalità collaborativa tra gli assessorati. Mi è venuto in mente, mentre parlavi della mensa, questa cosa per esempio che c'è stata nei giorni scorsi del pranzo rossignano. Ecco, questa interazione bella e forte, porte aperte tra assessorati su iniziative che giustamente hanno la necessità di spaziare da un ambito all'altro. Non so se ho notato bene. Hai notato benissimo e questa è una cosa che ci portiamo dietro anche dalla precedente amministrazione, insomma da sette anni a questa parte. Devo dire che ho dei colleghi come assessore che sono di una flessibilità, di un'apertura mentale, di una capacità culturale non indifferente. Io apprezzo molto nel nostro modo di interagire il fatto che quando uno ha un'idea, lo comunica agli altri, possiamo fare, possiamo condividere, cosa dici di... Cioè questi sono aspetti che fanno anche di un'amministrazione una comunità. Io ce l'ho con questo termine di comunità perché rende perfettamente l'idea, e lo dicevo quando ero dirigente scolastica nella mia scuola, noi dobbiamo renderci conto che all'interno di questo istituto scolastico è vero che abbiamo 1200 ragazzi, ma abbiamo 1200 papà, 1200 mamme, poi nonni, non ti dico, quindi è una comunità. Se noi riusciamo a maturare questo concetto di comunità, credo che farebbe bene a tutti, perché avremo un'altra visione che non è semplicemente egoistica dell'erba di casa mia. Esatto, sì 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 sì, addirittura in certi casi prevalere, no? E quindi con i colleghi ovviamente è maturata questa cosa, in particolar modo con l'assessorato alla solidarietà dell'assessore Sara Mengucci, o anche con Mila Dell'Adora, insomma, sono assessorati con cui abbiamo molto da condividere, poi senza dire poi dalla cultura conviene, insomma, quello che è... Alla fine li hai detto quasi tutti, insomma, poi parliamo di Morotti con l'ambiente e tutto il resto. Per quel che riguarda gli ambienti, per i locali, per noi non ne parliamo. Alla fine vedi che l'aggiunta... E poi questa bella abitudine che abbiamo dopo l'aggiunta di andarci a prendere un caffè insieme, io credo che sia una bella cosa. È un'altra cosa, bella, bella, molto bene. Allora, dalla regia stanno scalpitando, devi sapere, perché le tante foto che hai mandato, tutte molto belle, le vorremmo vedere. E allora le guardiamo e noi insieme guardiamo il monitor e raccontiamo di cosa si tratta, insomma, ci hai fatto questa selezione di foto, naturalmente in questi ultimi anni ne abbiamo tantissime, e questa è una selezione di foto. Questo è campo pratica? Eh sì, questo è campo pratica, è un'idea che è scaturita da me, nel senso che mi era venuto in mente, che potevamo cercare di coinvolgere i ragazzi delle superiori per la loro attività, ecco qui li vediamo tutti in fila con Zingaretti e con il sindaco Ricci, potessero impiegare ore della loro attività di alternanza scuola-lavoro nell'organizzazione delle manifestazioni e degli eventi. È una cosa che ha funzionato. Ha funzionato, ma non solo. Io credo che l'aspetto veramente positivo di questo è far capire i ragazzi, far entrare i ragazzi nel meccanismo delle iniziative della città. Quando passano per la piazza del popolo e passano in maniera indifferente, indipendentemente da quello che c'è, invece vedono i propri compagni, partecipano, conoscono, ricordo un ragazzo che diceva l'aver conosciuto Zingaretti per me è stata un'esperienza. Zingaretti è tutto il suo entourage ovviamente, perché capiscono qual è il meccanismo anche per una scelta, per vedere qual è il proprio talento, per esempio. Potrebbe scaturire anche un talento per questa attività. Allora, è stato tanto importante quanto il far entrare già i ragazzi a questa età in un contesto cittadino. Quindi... Dove le cose non erano esercitazioni, come mi piaceva sempre dire, ma erano cose reali. E poi il loro lavoro veniva comunque conteggiato come percorso scuola-lavoro, quindi la scuola ne prendeva atto. Certo, sono stati coinvolti nel ROF, sono stati coinvolti in Pop Sofia, adesso negli anni rischio anche adesso di dimenticarmene qualcuno, per cui come sempre quando si comincia un elenco è pericolosissimo perché poi ci si dimentica nel Doc Festival di Zingaretti appunto. Sono stati coinvolti soprattutto, quello che è importante, in cose reali, cioè in eventi veri e non semplicemente magari in simulazioni e esercitazioni. Vediamo qualche altra foto. Allora, qui cosa abbiamo? Questo abbiamo il Soroptimist, il 25 di novembre, il Soroptimist che ha regalato il 25 di novembre, sappiamo che è la giornata internazionale della lotta alla violenza sulle donne, eccolo qui, le voci contro la violenza. Ogni anno ovviamente l'amministrazione comunale fa delle iniziative, ma anche tante... Noi abbiamo diverse associazioni femminili nella nostra città che fanno delle cose veramente egregie. Come amministrazione comunale abbiamo preso, questo è nostro, invece l'abbiamo fatto fare noi da un bravissimo ragazzo, è un grafico. Cosa che facciamo noi come amministrazione comunale il 25 di novembre è quella di chiamare un esperto, diciamo così, un professore universitario, una persona che ha lavorato nel campo della lotta alla violenza delle donne, eccetera, in consiglio comunale. Quindi facciamo un consiglio comunale monotematico per la lotta alla violenza delle donne. Poi ovviamente ci sono tutti altri aspetti, la presentazione di libri scritti da donne, convegni appunto con esperti, atti amministrativi. Abbiamo fatto già dal 2015 la lotta, un decreto contro la pubblicità offensiva contro le donne. Quindi cerchiamo anche di muoverci sia sul versante della comunicazione ma anche sul versante prettamente legislativo e amministrativo. Un corso lungo, insidioso e scivoloso. Sentivo stamattina un commento sul festival di ieri sera, per cui dovrebbe essere, dove a Matilda De Angelis, l'attrice che è stata attribuita con sorpresa la caratteristica di essere spigliata, come se, tra parenti dell'attrice internazionale, ha partecipato con Nicole Kidman a una serie di Undoing con Hugh Grant, voglio dire, cioè non è, però 25 anni sul palco di Sanremo era spigliata, come se, no? E allora giustamente c'è da fare, insomma, dicevano mai si è sentito dire di un uomo, di un attore che era spigliato, non verrebbe in mente di un presentatore. Assolutamente. Di dire, come se fosse sorpresa, no? Se mi permetto di dire, anche tutta quella progettualità che portiamo avanti nelle scuole superiori, l'educazione ai sentimenti con il professore Ercolani e con la dottoressa Tartaglione, le lotte alle parole dell'odio, nate fra l'altro da una stimolazione che ci ha posto la senatrice Segre, che abbiamo la fortuna di avere come nostra concittadina, di lavorare contro l'indifferenza. Certo. E quindi, ecco, questo aspetto contro le parole, grazie al percorso donna che va continuamente all'interno delle scuole, grazie a dei professori che si sono specializzati, oserei dire, insomma, che sono particolarmente informati su questo settore. Stiamo lavorando nelle scuole. Io su questo penso una cosa mia personale. C'è una parte di me, che è la parte dell'utopista, che pensa che non ci dovrebbe essere bisogno. Ah, lo so. Cioè anche le quote, le cose, distinto o quasi, non dico un fastidio, sembra la riserva indiana, no? Sì, sì. E allora, però capisco che quella è la parte dell'utopia e nella situazione pratica, quando scendo sul pratico mi rendo conto che invece sono tutte azioni necessarie, assolutamente necessarie. Il mancato controllo della rabbia è una cosa sulla quale dobbiamo assolutamente parlare. Ecco perché ti parlavo prima del progetto sulla povertà educativa, ad esempio. abbiamo bisogno di una grande collaborazione delle famiglie in questo percorso di crescita dei nostri ragazzi. perché noi a scuola possiamo anche parlarne, ma è affrontare questa problematica, portare i ragazzi con degli esempi, fare degli spettacoli teatrali, come era stato fatto un paio di anni fa dal lecceo scientifico. Ma se in famiglia queste problematiche non vengono affrontate in maniera adeguata, magari anche chiedendo aiuto alle persone che possono essere... Guardiamo qualche altra foto perché il tempo corre e vorrevo vedere più possibile di quello che hai portato. Qui dove siamo? Allora siamo in una scuola dell'infanzia e sono gli esperimenti scientifici. Noi abbiamo come insegnanti della scuola dell'infanzia comunale un percorso di formazione nei confronti degli insegnanti di molte ore durante l'anno scolastico, ma questo fa riferimento a un libro che abbiamo anche fatto come Comune di Pesaro insieme all'Università della Bicocca di Milano sulle scienze, sull'esperienza scientifica dei nostri bambini nelle scuole. Ricordiamo che di tutte queste foto naturalmente che ci hai portato l'assessorato detiene diritti di pubblicazione. Sì abbiamo chiesto ai genitori l'autorizzazione. Alcuni di questi fanno parte anche di un calendario che noi tutti gli anni diamo alla fine dell'anno solare alle famiglie. Vediamo qualcos'altro. Ah qui è Carlo. Questo è Carlo Pagnini che parla ai bambini durante una visita al Parco Miralfiore. Naturalmente in era pre-covid altrimenti... Eh sì certo certo certo. C'è tutto un... Ecco questo è Andrea Fazzi. Andrea che abbiamo invitato come ospite in futuro appena finirà il suo... impegno con la scuola a venire ospite con noi. Perfetto sì. E devo dire che questo aspetto del... del culto dell'albero, della natura eccetera viene coltivato anche in tutte le scuole. Tutte le scuole hanno la cura del proprio giardino. Ecco perché Andrea lavora molto anche con noi. Perché segue tutta questa progettualità sia dei nidi che delle scuole dell'infanzia. Quando ero piccolo io si piantava l'albero... C'era un giorno dell'albero, si faceva una cosa... Adesso non me la ricordo più. Sì è a novembre, il 20 di novembre, sì il giorno dell'albero. Quest'anno abbiamo fatto, col fatto che appunto non ci si poteva incontrare, una specie di... così... esposizione di disegni dei bambini sugli alberi e proprio all'ingresso del comune. Gli alberi cambiantati quando ero piccolo io nella mia scuola saranno diventati altissimi, giganteschi. Adesso ad esempio il 21 di marzo è la giornata dedicata alla vita e pianteremo degli alberi per ricordare i bambini nati in questo anno che abbiamo appena trascorso, il 2020. Vediamo se abbiamo l'ultima tranche. Sì, ecco questi sono tutti gli incontri culturali che facciamo con le scuole secondarie di secondo grado. Questo è il dottor Ivano Dionigi, il professor Ivano Dionigi che è un nostro concittadino. Questo è il festival del giornalismo. E questo sono gli incontri sulla lotta alle parole dell'odio. Qui siamo anche a Caprile e questo è nella sala comunale dove i ragazzi riferiscono ai loro coetanei qual è l'argomento sul quale si sta trattando. Questo è in preparazione alla giornata della Shoah. Questo lavoro sulle parole secondo me è un lavoro da sviluppare non solo legato a questi temi come l'odio cioè l'importanza della parola come matrice di pensieri. Cioè lo sviluppo, la detenzione di un arsenale di parole importanti da utilizzare per sviluppare poi pensieri, ragionamenti e confrontarsi. Sì, lo strumento sicuramente è l'incentivazione alla lettura perché anche le parole bisogna conoscerle. Quindi con il fatto che è molto diminuito l'approccio alla lettura c'è un po' di difficoltà in questo perché bisogna incentivare assolutamente la lettura in modo che i ragazzi abbiano più parole per potersi esprimere. E qui abbiamo Pesaro Città che legge. E qui abbiamo Pesaro Città che legge. I ragazzi, presso San Giovanni, insomma sono delle belle... La lettura è una ricchezza, questo deve entrare come concetto e finché non arriva... È una ricchezza e un godimento. Sì, sì, sì. Il bello della lettura. Io ieri proprio ho fatto una piccola conferenza per Unilit online e parlavo di Alessandro Baricco che è uno degli autori che preferisco e dicevo che lui scrive in modo che è piacevole leggere. Allora questo è già un punto chiave, no? Cioè dare l'esperienza del leggere mentre si sta leggendo, del piacere del leggere mentre si sta leggendo, non necessariamente del leggere per accantonare cose che poi uno impara mentre legge. Quello è studiare, che poi è un altro mondo. Certo. Manca un minuto. Io qui mi ero preso un appunto che tu mi avevi anticipato su questa impostazione progettuale dell'assessorato. Non ne abbiamo parlato sostanzialmente, però chiudiamo con questo. Allora, io fin dall'inizio, sette anni fa, con i miei collaboratori ho posto in essere degli obiettivi. Uno era quello di rendere ovviamente efficace ed efficiente tutto il servizio perché la popolazione, la gente, le famiglie si aspettano che questi servizi funzionano e quello ci sta tutto. Ma ti dico, ci sono delle persone nell'assessorato che sarebbero da premiare ogni giorno perché lavorano in maniera incomiabile. L'altro è quello che deriva dal termine istruzione. Assessorato all'istruzione e alla crescita. Cioè deve essere anche un assessorato che fa cultura. Un assessorato che ha un approccio di apertura, di flessibilità verso gli aspetti culturali che contraddistinguono una città. Ecco perché ti dicevo questo, sentire le donne e tutte le associazioni, sentire le scuole e le loro proposte. Poi è chiaro, anche noi proponiamo il nostro punto di vista, però prima di tutto passa attraverso l'ascolto. L'ascolto di un territorio, che cosa ti propone quel territorio e poi sviluppare insieme a coloro che ti propongono qualcosa che faccia bene alla nostra città. Quindi credo che siano degli approcci per me vincenti. Poi dopo magari arrivano anche dei suggerimenti di ulteriore aumento di queste possibilità, io sono sempre pronta. Perfetto. Allora, siamo nei tempi perfetti e noi ringraziamo l'assessore Giuliana Ciaccarelli per essere stata con noi a raccontarci un pezzo, secondo me importante, della nostra città, di quello che si muove mentre noi siamo affannati alla quotidianità e al vivere il nostro quotidiano. Anche noi. Grazie allora. Anche noi, grazie a tutti. Dobbiamo solo andare in pubblicità e subito dopo avremo con noi Alberto Giuliani, fotografo e giornalista, per ora non vi dico di più, ma restate con noi perché sarà una bellissima sorpresa. Grazie ancora Giuliana. Grazie, grazie a voi. Posto. Eccoci allora, siete tutti lì? Benissimo. Allora, di nuovo belli concentrati all'ascolto perché siamo con il secondo ospite della giornata, Alberto Giuliani. Buongiorno, Alberto. Buongiorno, Paolo. Buongiorno. Allora, come dicevo prima, ieri ci siamo sentiti e ti ho chiesto cosa ci metto nel sottopancia. Mettiamo, il sottopancia sarebbe la scritta, quella che esce sotto così, lui ha detto mettiamo un fotografo e giornalista, ma insomma tanto per essere sintetici, perché poi ce ne sarebbero da scrivere molte, no? Sicuramente. Sì, quelle sono le mie radici, a volte mi domando io stesso che lavoro faccia, diciamo cosa faccia nella vita o cosa farò da grande. Esatto. Però intanto per cominciare, diciamo, scrittore e fotografo, giornalista e fotografo. E poi vediamo. Allora, Alberto Giuliani è nato l'8 settembre, prima si scherzava durante la pubblicità, sul fatto di questi libri, no? Che noi ci giochiamo un po', però ci sono mondi e popolazioni che insomma ne fanno oggetto addirittura di studio. Allora, l'8 settembre è il giorno del complicato purista, definito. Gli enigmatici individui nati l'8 settembre non sono affatto facili da capire. A livello di intenzioni fanno di tutto per mettere ordine nel lavoro, appianare i problemi e in generale migliorare le condizioni della loro famiglia, del gruppo sociale o nazionale a cui appartengono. Tuttavia, se quando intraprendono strade sbagliate restano comunque convinti di aver agito in modo ragionevole e responsabile. Poi va avanti per due pagine, per cui non lo so. Nati in questo giorno Riccardo I e Peter Sellers. Pregi serio, dinamico, efficiente. Questi sono fondamentali per il tuo lavoro, direi. I difetti io non li leggo più da molto tempo, per cui non messi via lì così e via. Un'altra cosa divertente che faccio è andare a scoprire cosa si cela dietro il nome. Alberto è la contrazione di Adalberto ed è un nome di origine tedesca, uomo di lustra e nobiltà. Esatto, Adel Eberto. T'abbiamo fatto proprio il ritratto. Adesso queste cose, queste diverse cose, in una, tre cose poi sono, perché in realtà oltre a fotografo e giornalista possiamo aggiungerci anche scrittore, tutti gli effetti. Sì, possiamo aggiungerci. Mi raccomando il microfono vicino. Possiamo aggiungere la scrittura, possiamo aggiungere l'immagine in movimento, possiamo aggiungere la comunicazione. È stato un divenire. Io nasco dalla fotografia, nasco con la fotografia da un punto di vista professionale, alla quale mi avvicino da ragazzino. Stavo qua a Pesaro ed era il linguaggio più immediato che potesse permettermi di raccontare e, come dire, camminare e andare per il mondo. Questa forse era la prima vera volontà. Non ho mai pensato di fare il fotografo, nel giornalista, nello scrittore, nel videomaker. Quello che volevo fare era innanzitutto viaggiare e poi ho capito che volevo raccontare storie. Sono riuscito, insomma, è un grande privilegio il mestiere che faccio. La fotografia era appunto il linguaggio più immediato e ancora oggi è, diciamo, il linguaggio che io leggo all'istinto, alla pancia, per cui non si può vivere e scrivere contemporaneamente, ma si può vivere e fotografare. La scrittura arriva per me in un secondo momento quando ci si ferma, diciamo, la sera, la notte, si pensa e si mettono in ordine le cose. Appunto, come diceva il libro, è importante per me ordinare i pensieri e da ogni esperienza trarre un messaggio, un insegnamento del quale ho sempre cercato di far tesoro. Quindi, diciamo, la scrittura è arrivata dopo anche nella mia vita. E poi alla fine c'è l'immagine in movimento, il video, il cinema è una parola troppo grande e essendo, considerandolo così, troppo grande ho in qualche modo utilizzato quel linguaggio che ritengo completo, appassionante, lento per il mio carattere, perché sono un ansioso che ha bisogno di fare abbastanza in fretta le cose e ecco, il video richiede invece tutta una serie di accorgimenti, di persone, ciascuno con la propria professionalità per cui, ecco, ho deputato quel linguaggio ai lavori più commerciali che sono comunque una parte importante che mi fa vivere. Allora, fino adesso abbiamo parlato senza svelarvi una cosa fondamentale che vi sveliamo fra un attimo. Ci piace immaginare come idea che il fotografo sia meno conosciuto di faccia perché lui sta dall'altra parte, fa le foto, il videomaker fa i video, lo scrittore scrive, per cui tolto il fatto di esposizioni più o meno come quella a cui ti abbiamo sottoposto oggi in televisione oppure altri casi, di solito, diciamo, si conoscono le opere delle persone e si conoscono meno le persone. Alle volte si dimenticano anche i nomi, no? E allora, per qualcuno distratto, particolarmente distratto o curioso sul fatto del perché io abbia chiesto alla redazione di invitare Alberto Giuliani qui con noi oggi, diciamo bene per cosa tu in questo momento, sicuramente al pubblico pesarese, ma al pubblico mondiale, perché poi, diciamo, fin dove sono arrivati, fin dove è arrivato questo reportage, sei diventato famosissimo, diciamo. Famoso già lo sei, già lo eri, fai un lavoro che ti porta in tutto il mondo e sicuramente i più attenti ti conoscono già. Però, diciamo, il grande pubblico, l'esplorato del grande pubblico è arrivato con questo reportage pluripremiato che tu hai realizzato lo scorso anno all'interno dell'ospedale San Salvatore di Pesero nel momento in cui la pandemia aveva sconvolto sostanzialmente la vita di tutti. Quello era il momento chiave. Allora, queste sono le foto che stiamo vedendo che hanno portato questo reportage hanno portato quello che stava succedendo a conoscenza del mondo e questo reportage all'attenzione dei media mondiali al punto da vincere anche diversi premi. Parlacene un attimo. Sì, la premessa è che io ho sempre lavorato per l'editoria, nel mondo dell'editoria, per giornali italiani e stranieri. Quindi, come dire, era una strada per me fisiologicamente aperta. Avevo nei primi giorni della pandemia che aveva sconvolto tutte le vite, appunto me compreso, il compito che mi era stato assegnato era quello in qualche modo di raccontare per un paio di testate italiane e stranieri ciò che stava accadendo ma avevo l'impressione di girarci intorno. Cioè io avevo il privilegio di poter uscire e vedere il vuoto che tutti ricordiamo tristemente. Però detto ciò, non capivo neppure io cosa stessi facendo e dove stesse il problema, cosa stesse accadendo. E per indole, se ho una paura o se sento una paura, ho bisogno di vederla in faccia. Questo per assurdo mi acquieta le mie angosce. Di lì l'idea di dire ok, la questione si gioca all'interno degli ospedali e nei reparti di terapia intensiva, andiamo a vedere cosa succede. Sapevo, immaginavo cosa avrei trovato, non era la prima volta che c'entravo, però avevo bisogno di farlo nuovamente. E ho cercato una chiave per raccontare quel momento che fosse la meno invasiva, cioè non volevo mostrare corpi di pazienti, Sì, non era questo il senso. Quindi la più semplice e la più delicata, che però in qualche modo mi aiutasse a capire il momento e a segnare quel momento storico. E ho individuato, non era cosa nota, nel senso che non sono stato io il primo a sottolineare i segni delle mascherine sui volti, ma erano già immagini condivise da molti infermieri e medici di tutto il mondo sul web. Però mi è sembrato un segno importante, non tanto per il segno estetico, ma immaginavo che quella cicatrice potesse arrivare ben più in fondo nell'animo di tutti noi e loro in particolare. Per cui ho chiesto ad alcuni medici che conoscevo già da tempo, essendo appunto nato qua a Pesaro, aiuto se potevano aiutarmi nel raggiungere questo scopo. Devo dire che ho trovato grandissima collaborazione, apertura, disponibilità, nonostante il momento. E di qui, ecco, nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Salvatore, che è proprio dietro a casa mia, peraltro, ho realizzato queste immagini nel corso di alcuni giorni. Per quanto possa sembrare, diciamo, forse un po' cinico dirla così, eri nel posto giusto al momento giusto, insomma, perché poi tu hai girato il mondo. Eri, ovviamente partendo da Milano, dopo se avremo tempo racconteremo brevemente anche questo tuo girovagare, però eri dovuto tornare a Pesaro per un po', bloccato poi dalla pandemia e a quel punto, lo ripetiamo, qualcuno ti ha chiamato e ti ha detto già che sei lì, raccontaci un po' cosa sta succedendo. E hai detto, ok, già che sono qui. Io credo che esista una sorta di giustizio, di giustezza delle cose. Nel senso, sì, ero nel posto giusto al momento giusto, ovviamente elemento fondamentale nel mio lavoro, però l'ho preso un po' come il bicchiere mezzo pieno è un regalo della mia città in qualche modo, per essere tornato, mettiamola così. E questa risposta da parte dell'ospedale è arrivata forte, insomma. È arrivata forte, immediata, e con mia grande sorpresa, nel giro di pochissime ore dal momento nel quale ho espresso la mia volontà e basata soprattutto sulla grande volontà e coraggio anche di alcuni medici che in qualche modo si sono presi la responsabilità comprendendo l'importanza del testimoniare. Certo, erano quei giorni, ricordiamo, nei quali la città era molto silenziosa, si sentivano solo le sirene dell'ambulanza, insomma, per capirci, erano proprio quei giorni, i primissimi giorni dei lockdown totali e della grande paura che perdura, ma che in quel momento era facile che sconfinasse nel panico puro, insomma. Sì, era paura, mai avrei pensato, per tanti anni, soprattutto all'inizio della mia carriera, mi sono occupato di attualità, di zone di crisi e poi negli ultimi anni invece mi sono occupato di scienza, di immortalità, di morte, di ciò che la scienza nel mondo sta facendo per affrontare le grandi sfide dei prossimi globali, dei prossimi decenni, però mai avrei pensato che una situazione così inattesa, drammatica, dura potesse bussare alla porta di casa. E qui entra in gioco anche la professionalità e appunto l'abilità del professionista. Mi hai raccontato di questa cosa divertente sui tempi stretti, sul chi, cioè una volta realizzato chi proporre e mi parlavi di cose che fanno tremare i polsi a noi esseri umani normali, Washington Post da una parte e The Atlantic dall'altra, insomma, cosa è successo in quei momenti? Dovevi fare delle scelte? Sì, lì entra la questione appunto anticipavo infatti che per me era un terreno semplice, sono tutti, i grandi giornali sono sempre stati i miei clienti in qualche modo, ho sempre lavorato per loro, quindi quando ho capito che ciò che avevo in mano proprio appena tornato a casa e poi a 100 metri all'ospedale, ripeto, lo vedo dalle mie finestre l'ospedale, tornato a casa ho visto le immagini e ho capito che avessero un valore. Più guardando le immagini che quando... Sì, più guardando le immagini. Sì, devo dire che stando lì dentro quel reparto in quei giorni si provava un grande senso anche di confusione, di spaesamento e lo leggevo negli occhi dei medici stessi che non sapevano cosa fare, si sentivano impotenti, cioè ciò per cui avevano studiato e sempre lavorato non sortiva effetti. Questo era assolutamente disarmato. Guardando le immagini ti rendi conto di quello che hai? Guardando le immagini capisco che... Torni il professionista dell'immagine. Sì, che c'era, che la storia c'era. Per cui il primo giornale che chiamo Stern, che per me è sempre stato appunto un giornale vicino e che accoglie subito la proposta, pubblica subito le foto e poi chiamo Washington Post e The Atlantic che per me era un giornale abbastanza nuovo ma tu anticipavi i tempi delle... A quel punto si tratta di vendita però, quindi di mercato puro. Ho un prodotto che è unico ed è unico perché nessuno è riuscito ad accedere ad una situazione simile o quantomeno l'ha fatto e per cui si inizia a giocare la posta. Il primo a rispondere fu il The Atlantic e sapevo che anche il Washington Post sarebbe arrivato di lì a poco ma non ho avuto il coraggio di attendere nonostante fosse un giornale che mi dà maggior lavoro e per cui decido di affidare il lavoro al The Atlantic. Con un po' di rammarico e di spiacere perché un'ora dopo arriva la mail invece del Washington Post che dice va bene andiamo in pagina e dico no fermi tu esce il tuo concorrente per cui non è stata una bella mossa però devo dire che il The Atlantic ha una grande forza online e questo poi ha sicuramente contribuito a diffondere maggiormente le immagini che poi a ruoto sono state riprese da tutti i giornali del mondo dal Giappone e pluripremiato sì pluripremiato bene il lavoro ma la grande soddisfazione è stata faccio un passo indietro ho iniziato questo mestiere da ragazzo e come giusto che sia lo facevo con grande ideologia e con la volontà la presunzione di cambiare il mondo a vent'anni a quindici vent'anni insomma è giusto che sia questo il senso mi sono accorto nel tempo che così non era anzi ho avuto molte delusioni rispetto al fatto che la fotografia in generale avesse veramente questa opportunità stava cambiando il mondo e in tanti anni sta cambiando da solo il mondo praticamente sì il mondo cambia da solo bisogna vedere in che direzione sai uno ha sempre la presunzione quella di poter fare qualcosa pensando e supponendo di essere dalla parte del giusto e di avere in mano la verità verità che poi ho capito essere sempre un pregiudizio e comunque pochissime volte mi è capitato le posso contare sulle dita di una mano mi è capitato che il mio lavoro cambiasse realmente le cose in maniera importante in maniera nobile ecco e beh questa è stata una di quelle credo perché le immagini sono state scelte all'inizio per una campagna che doveva essere solo canadese e mi faceva piacere ma rientrava nell'ambito mercato in qualche modo da un brand che è DAV che è un brand del gruppo Unilever che è una multinazionale e loro avevano in mente una campagna nella quale dicessero che il coraggio è bellezza e avrebbero donato dei soldi agli ospedali canadesi dove è la ragione d'orgoglio che sulle immagini è cresciuta questa cosa è esplosa nelle nostre mani dico nostre perché poi c'era un'agenzia che è Ogilvy un'agenzia importante cioè Unilever ha detto no queste immagini hanno la forza di raccontare in tutto il mondo per cui la campagna la facciamo diventare mondiale i soldi che doniamo li doniamo a tutti gli ospedali del mondo e hanno donato 153 milioni di dollari che sono tanti soldi una piccola donazione è arrivata anche all'ospedale di Pesaro ovviamente e beh è stato motivo d'orgoglio perché non si trattava solo di vendere delle foto o si trattava anche di aiutare degli ospedali delle persone e questa il sogno di quel 18enne partito appunto da Pesaro per Milano un po' un pezzettino di quel sogno nella vita sì un pezzettino alla volta sì credo che abbia avuto un senso e abbia ancora un senso sì penso di sì tu sei partito hai fatto un giro un po' del mondo per tornare adesso in questo momento qua quasi per forza però diciamo che in questo momento sei di nuovo a Pesaro è stata una scelta quella di tornare assolutamente anzi erano almeno 7-8 anni anzi direi 10 quasi 10 anni che cercavo di tornare a Pesaro e attraverso quale attraverso Milano Buenos Aires Bombay che sono i posti dove appunto ho abitato e poi un sacco di altri viaggi di possibilità però forse mi ricordo all'inizio ho iniziato a viaggiare appunto molto giovane e in ogni posto dove andavo mi fermavo dei mesi mi ricordo chiamavo sempre a casa mia mamma mi diceva mamma mi sa che mi fermo a vivere qua e mia mamma devo dire non ha mai detto no però mi ha molto peggio faceva stimolava così il senso di colpe diceva come vuoi ma ricordati di tuo nonno perché mio nonno lasciò Pesaro per andare a cercare mio nonno e tutta la sua famiglia insomma quindi famiglia di emigranti per andare in Argentina e poi non è più tornato per cui così lasciando insomma una famiglia erano gli anni erano gli anni 30 figuriamoci da parte l'Argentina è piena di italiani sì 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 esattamente per cui grande sofferenza per mia mamma che si è ritrovata con un padre lontano e tutte le difficoltà che possiamo immaginare per cui mi diceva questo fai come vuoi però ti mancherà e ricordo una poesia un altro piccolo elemento che lei si incanda da una volta da un immigrato e diceva ma in un bar proprio sai quelle cose appese e diceva perché la gente non può capire che di nostalgia si può anche morire e sono piccoli elementi però che alla fine mi portavano lontano e mi ritiravano un elastico verso la mia città che amo molto e due cose in chiusura da Pesaro adesso con tutto lo sviluppo tecnologico che c'è stato si può lavorare in campo internazionale? certamente adesso si cioè una volta no una volta no era molto complicato dipende cosa si fa e come lo si fa Giacomelli o Ghirri se parliamo di fotografia parlo del tuo lavoro la scrittura si del mio lavoro si può ora io metto insieme più cose per cui la fotografia sicuramente è più complicata perché è riuscito un colpo bene questo ora approfondiamo un po' ancora un poco poi però il mio lavoro è fatto di strada di scarpe di camminare però si può far base a Pesaro però si può far base però si può completare con la scrittura si può completare con la produzione di contenuti e la gestione della comunicazione di molti aziende ma qui purtroppo siamo arrivati lunghi e ho poco tempo da darti riguardo il tuo libro Gli Immortali che chiaramente mi ha colpito per questo titolo che mi ricorda una delle mie canzoni preferite di Giovanotti ma che credo che non abbia non ci avevi pensato no 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 peraltro il titolo non l'ho neanche trovato io ma l'ha trovato l'editore lasciandomi anche un po' spaesato ricordo io ero alla fine di questo lungo viaggio che parte dall'India da cose vicine a quel libro però poi incontra tutti i più grandi scienziati del mondo che cercano in qualche modo di trovare soluzioni al nostro futuro per poi non svelo il finale ma tornare in India e quando ero in India proprio a finire a scrivere l'ultimo capitolo del libro l'editore mi comunicò e poi il titolo io dissi ma non è però invece funziona funziona perché la domanda alla fine la domanda alla quale tutti gli scienziati del mondo cercano di dare una risposta riguarda proprio la vittoria della vita sulla morte per l'essere umano e quindi l'immortalità in qualche modo certo mi ha ricordato due cose sulle quali poi ci salutiamo uno è l'incipit di un indovino mi disse di Terzani sulla profezia e l'altra cosa è un libro che ho letto recentemente si chiama Essere macchina che è lo stesso un percorso molto lungo attraverso tutti questi posti dove fanno esperimenti di conservazione criogenica insomma crioconservazione insomma tutto questo qua per cui non mancherò di leggerlo voglio dire mi manca questo gli altri due li ho letti eh sì allora ti manca questo va bene senti Albert io ti ringrazio il tempo come è sempre volato per me queste mattinate sono sempre delle grandi corse contro il tempo perché vorrei dire tanto e mi auguro comunque di riuscire a raccontare i personaggi che siedono sul nostro divano ai telespettatori a casa e soprattutto di far star bene le persone che vengono qui con noi mi auguro che sia successo anche con te e ti voglio ringraziare ti voglio assolutamente ringraziare grazie a te per l'ospitalità e agli ascoltatori per la pazienza e allora adesso andiamo con un brano musicale e poi dopo ci vediamo con il terzo ospite Dalila Scatassa che è già qua e che la vede già la saluto però prima dobbiamo dire due cose che riguardano il sondaggio pare che i capelli ricci vincano sui lisci 57 a 43 ma vi ricordiamo che il sondaggio resta aperto sulla pagina Instagram sulla storia da qualche parte su Instagram ringraziamo tutte le persone che ci seguono e tra questi citiamo Tommaso Letizia Silvana Gloria Massimiliano insomma un po' dei nostri telespettatori ringraziamo Tiziano l'abbiamo già fatto Tiziano Donzelli per averci portato tutte queste cose con cui abbiamo allestito il nostro studio ricordiamo agli artisti che se vogliono possono mandarci i link o comunque addirittura i loro video perché come nel caso di quello che stiamo facendo vedere adesso stiamo privilegiando artisti locali allora il pezzo che va in onda adesso è pensandoci di Tirone con la Y un cantante pesarese anche lui un autore locale tra quelli a cui stiamo dando la possibilità di farsi conoscere anche attraverso la nostra televisione restate con noi ci vediamo fra un po' con Dalila Scatassa Alberto grazie grazie ancora a una prossima sicuramente quando volete con piacere grazie ancora grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti per imparare ad andare avanti questo astio che mai passerà nel più profondo ci resterà pensandoti che il giro tondo pensandoti mi nascondo pensandoti vedo il fondo pensandoci se è il mio mondo pensandoti in un pianto pensandoti vorrei accanto pensandoti affogando pensandoci se è il mio mondo 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 so che paura ne ho anche io con te volerei da un parapendio se questo servisse per farmi notare un tuo capello vorrei sfiorare sarà bello lo sai anche tu da qui si va soltanto su uh 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 pensandoti che il giro tondo pensandoti mi nascondo pensandoti vedo il fondo pensandoci se è il mio mondo pensandoti in un pianto pensandoti vorrei accanto pensandoti affogando pensandoci se è il mio mondo oh San Lack mollano san l'ho oh san l'ho ho san l'ho muenio san l'ho muenio san l'ho Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.